Che cosa sono gli zigos? Gli zigos sono i quattro arcangeli che dominano le forze di natura, sono quattro esseri intelligenti, arcangeli appunto, che governano le forze della natura, aria, acqua, terra e fuoco, ciascun elemento corrisponde a un arcangelo. E quindi questi sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse che il Padre usa per sferzare l'umanità disobbedienti alle sue leggi. L'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Ottimo, grazie. Il virus, il Covid, fa parte dell'elemento terra. Eh, infatti, questo l'avevi già detto in un'altra occasione, vero? Perché colpisce il corpo, il corpo è terra.